Per conoscere le cause della morte della giovane di 28 anni di Sernia bisognerà aspettare ancora un paio di mesi. È il tempo che occorre al medico legale Massimiliano Guerriero per compiere tutti gli accertamenti legati all'autopsia effettuata all'obitorio del Veneziale di Sernia e per studiare la documentazione dei due ricoveri della ragazza. Per ora il sostituto procuratore Federico Scioli ha aperto un fascicolo contro ignoti. Il reato ipotizzato è di omicidio colposo ma solo la relazione del dottor Guerriero potrà chiarire cosa sia realmente accaduto se ci si trovi cioè di fronte a un altro caso di mala sanità oppure se sia stata una tragica fatalità a porre fine all'esistenza della 28enne. Il caso è molto complesso ha detto il procuratore capo di Sernia Paolo Albano e dunque è d'obbligo procedere con prudenza. E ci va molto cauto anche Fulvio Ciaffrei avvocato di fiducia dei familiari della giovane. Anche lui aspetta la relazione dell'autopsia prima di trarre delle conclusioni. Ma di certo si farà tutto il possibile per dare una risposta ai parenti della vittima. Sono stati loro a presentare una denuncia alla questura di Sernia chiedendo di conoscere la verità su quella morte avvenuta al Veneziale. La ragazza, raccontato un suo familiare, un mese e mezzo fa iniziò ad avvertire forti disturbi causati da un'infezione, forse una broncopolmonite. Fu ricoverata e sottoposta a terapia. Le sue condizioni migliorarono leggermente, ma dopo le dimissioni dall'ospedale, la ragazza venne colpita per la seconda volta da una forte febbre. Fu nuovamente ricoverata al Veneziale e sottoposta a intervento, probabilmente per rimuovere il sacchetto usato per alimentarla. Si parla di un'operazione tecnicamente riuscita, ma la 28enne da allora non si è ripresa più. È morta tra le braccia della madre, che ora chiede di sapere se questo tragico epilogo fosse o meno evitabile.